Ciao ragazze, ciao ragazzi Ciao Oggi come potete vedere sono assieme a degli ospiti super speciali che sono venuti a raggiungere in Olanda ragazzi, non ci potete credere vi piangere, vi spiegheremo ecco, comunque siamo tutti e quattro qui, voglio ringraziare tantissimo Andrea Black Geek o Black Geek e Chiara che vi metterò in lato naturalmente ringraziamo anche Neil per la presenza soprattutto Neil perché senza Neil né io né Chiara saremo qua grazie Neil quindi io vi linkerò comunque io ho due canali qua sotto nel box di informazioni poi perché il mio il mio purtroppo ci sarà mai X ecco, vi linkerò il canale di Chiara nel box di informazioni e qua se vedete questo video tra qualche giorno, tra qualche settimana cercate il canale di Andrea Black Geek ci spera il canale di Neil? sì, c'è c'è? no, sì Instagram di Neil Instagram linkiamo Instagram non lo sa neanche lui non gliene frega niente profilo Tinder di Neil in particolare dovete andare a vedere il video che abbiamo fatto per i canali di Chiara tutti e quattro assieme nel quattro ne scoprirete delle belle non è sempre delle visualizzazioni quindi iniziamo subito con il video di oggi ragazzi perché su Instagram io poco fa vi ho chiesto di farci le domande che avete sempre voluto fare ai ragazzi ma che non avete mai avuto il coraggio di fare e le faremo noi per voi noi per voi a chi? a questi due ragazzi a questi due e noi risponderemo onesti nell'onestà più assoluta cercando di rispondere come risponderebbero altri ragazzi iniziamo con una domanda subito molto interessante perché i maschi hanno paura del confronto e spariscono? bella domanda questa Neil si potrebbe ricollegare ad eventi del passato? io non ho capito la domanda no ma piuttosto che magari confrontarsi e scappate ragazzi io e Chiara ci siamo conosciuti con un video dove l'ha insultato quindi io direi che di confronto ne ho fatto anche troppo per me questa cosa non è valida è vero però lui è uno che si confronta un sacco eh più che altro magari perché dei ragazzi in genere sono più insicuri e quindi la ragazza in genere cerca sicurezza quindi se hai dicono che tu sei sicuro io sono una persona ma abbastanza sicurezza lui è estremamente sicuro di solito cioè non troppo però con un croccio di umiltà però abbastanza comunque hai rubato la scena a Neil infatti Neil sta sperando di evitare la domanda per me perfetta è la risposta io appoggio non vale appoggiarsi non vale appoggiarlo ah Andre si taglia dai ok arrivederci chiudiamo cioè si può in Olanda stare in questo modo perché semplicemente c'è un giardino imperiale davanti a me a dire un po' a dire scusa preferisci che sia la ragazza a prendere l'iniziativa o preferisci farlo tu? fai rispondere Neil no adesso prima facci la ragazza perfetto fai tu la ragazza io sei il posto c'è la sistemaccio non mi fa niente sarei sul paradiso eh cioè se mai capitano cose così ti fai fare un caldo va bene sicuro dipende da che iniziativa è cioè no adesso fate gli scherzi vai se l'iniziativa è la richiesta di matrimonio ah ok vabbè ti hai ragione però è vero se invece è l'approccio una ragazza che ci prova ha tanto di cappare no bene bella risposta guardate prima il viso o il corpo in una ragazza sinceri mi raccomando posso dire dipende dipende da da cosa devi fare da che qualità ha la ragazza volevo dire dipende dalle qualità cioè in base alla sezione aurea del corpo che mi attira di più poi si decide cosa guardare per primo e quindi poi se uscire a cena oppure beh va bene va bene tu Chiara secondo te di te cosa ho guardato come prima cosa? wish il cellulare finto hai guardato quello è vero poi di seconda? il numero di iscritti terza è di massacra terza la faccia perché ti sei inquadratata così a così ah ok io potrò dire che di Chiara ho visto come prima cosa la faccio cosa guardi per primo in una ragazza il viso o il corpo? beh il viso è sicuramente la prima cosa poi magari il corpo subito dopo io non ci credo non so tu ma neanch'io però passiamo passiamo direbbero tutti così è la risposta perché siete tutti dolci e romantici all'inizio e quando noi siamo prese diventate freddi distaccati? interessato molto e moltissimo questa domanda facciamo a turno Neil vai non so io di solito se cambia qualcosa è perché non sono più innamorato perché almeno fin qui quando dura innamoramento quando sono preso il 100% cerco di dare sempre il massimo guarda che abbiamo chi qui chi può confermare o smentire quello che stai dicendo io dico quello che è oggi poi quello che era quindi ammetti ah sicuramente ho fatto dei sbagli sono solo no? ragazzi io Neil cioè per me che sono un suo amico che ha conosciuto tre giorni fa un'età due mesi fa ha già fatto due voli di cui uno in aereo e uno in macchina quindi non lo so pensare cosa fa già per la ragazza che ama della tua vita no ma infatti nessuno sta dicendo che è capito no ho detto solo di stare attento a come rispondeva perché abbiamo chi può confermare o smentire fine perché le relazioni secondo me sono un po' un gioco di potere è triste da dire ma è vero cioè o c'è massimo quindi lo facciamo apposta lo facciamo apposta perché c'è anche l'intenzione di prezionare attenzione signori della corte noi lo facciamo perché secondo me abbiamo paura di perdere perché anche voi poi sapete però capire quando noi magari abbassiamo un po' la guardia ritiriamo la trittata siccome sappiamo che se la donna prende il sopravvento per noi è la fine allora quindi non esci del fatto che noi siamo più forti di voi se nella relazione la donna prende completamente il sopravvento sono guardi poi invece una relazione perfetta dovrebbe esserci equilibrio massimo tra le due parti e quindi entrambi abbassano lo scudo però molto spesso non è così penso che esatto quello di che succeda molto raramente Andrea è vero che hai baciato Chiara? non rispondiamo non è una domanda non lo so l'hanno fatta Neil tu che sei stato in macchina con noi ho mai baciato Chiara? devo rispondere? no non rispondere risponderà in un video Chiara sul suo canale ma perché gli date questa non lo so no questo è carina perché dovete sedervi sempre con le gambe così allargate io sono stato cresciuto ma lui ha fatto la tua e così l'altro è lì poi non so come sono così però è grave però spesso state seduti così che per noi è strano noi non lo facciamo è una questione di maleducazioni io sono sempre stato cresciuto che fare così era da femmine da piccolo mi prendevano in giro perché stavo così mi dicevano ah ci hai mai visto e allora questo sempre così però così no è da maleducati eh ok secondi dopo ma lui non sta mai ma lui non sta mai con il telecom cioè con sempre con un po' una situazione che magari assumo quando sono più chilly che magari vuole essere più comodo allora magari assumo quel po' sì ma non super l'alcio non ti ho mai visto star saluto altrimenti no ma neanche io in questi giorni non l'ho mai visto nonno questa è molto carina perché siete intimiditi da donne che guadagnano più di voi questo è veramente sarebbe interessante capire la risposta di tale che persona parte dei presenti vai io dirò una cosa un po' così ma non mi è mai capitato di andare con una ragazza che guadagna più di me ok quindi quindi non lo sai vabbè vedo però che molte sono intimidite dal fatto che io guadagno più di loro le ragazze ma non è questione di uomo o donna se vediamo una persona che guadagna più di noi scattano due pare ti fai problemi perché pensi che l'altra persona pensi che lo vuoi scattare però c'è anche un po' nell'immaginario cioè nel diciamo immaginario collettivo nella società è sempre stato l'uomo che guadagna il più di solito se la donna guadagna più per voi uomini è molto più dura se avessi una moglie una compagna che guadagnasse più di me sarei solo contento ma secondo me questo è un problema per chi non è soddisfatto della sua esatto cioè io sono contento se poi la mia compagna guadagna il dopo dico bello allora questa cena la fai di tutto grazie sei felice per lei che il rapporto è una cosa stiamo e dovrebbe essere così il problema probabilmente nasce quando ci sono già problemi nella coppia perché magari non funzionano le cose perché se se c'è veramente io lo chiamo l'amore puro diciamo quello sincero perfetto questi problemi non si pongono per nulla ok appoggio molto comunque noi siamo due cavalli cioè li stiamo tenendo testa comunque tu e nì ve lo state dicendo da soli come chi si nota si brona però va bene oh ragazzi andate a scriverlo vogliamo sapere dite la vostra rileggete mai i vecchi messaggi delle persone che vi mancano e magari piangete come noi donne cosa ti è divertito perché piango adesso per l'anima si vede proprio la lacrima che scende ma non si va io non piango mai pure cioè esatto perché dico io non ho mai caldo per i messaggi ma zapp però lo starei per dire piangendo per il bambino quindi vabbè io riaspettare gli audio sempre quello che io sempre quando le persone accogliano i preveriti ascolto sempre però piangere non piango per un messaggio da sei anni sette anni per me non è uguale mi emoziono abbastanza per me lo si potrebbe capitare che carino prossimo video Neil si promuove a piangere con gli altri messaggi riferite davvero la donna acqua e sapone che qui lo dicono tutti ma in fondo sappiamo che non è vero poi si girano a guardare quelle che effettivamente sono cioè mi giro anch'io però dico non è acqua e sapone allora dirlo poi davvero io nulla mi attrae di più di una tipa acqua e sapone bella ovviamente cioè perché bisogna sapere essere belli lì non è tanto un sapere lì è un dono o lo sai però se una tipa è bella carina acqua e sapone mille volte meglio una tipa carina acqua e sapone piuttosto che una tipa strabella tutta vestita punti però io su sta cosa confermo perché andre tutte le volte che facciamo le videochiamate però non sono truccata e lui dice sempre meglio così è vero è sempre carino il trucco a me non aaaaaah aaaaaah perché non è vero lei quando l'ho conosciuta io lei era proprio acqua e sapone è vero non sapevo truccarmi ma perché non sapevo truccarmi e io ho dovuto scrivere che dopo qualche mese uff cambio mi ha conosciuto che ero in terza era uno di 20 trucchi è vero perché mi hai conosciuto che ero in terza superiore internet come lo conosciamo noi non esisteva io volevo truccarmi ma non ero capace e poi ancora meno di adesso e poi quando sono riuscita finalmente a carpire qualche trucchetto basta cioè per quello io sono un po' stai tu non è che potevi pensare che la prima volta che l'hai portato in un negozio di rossetti ma questo rossetti dice bam poi anche questo è molto molto interessante avete mai desiderato la fidanzata e la ragazza di un vostro amico brava ma tutti dicono no mai sì non si fa mai però dovete rispondere cioè onestamente onestamente ragazzi io invece ti rispondo onestamente una volta sola sì e? e siccome era un mio amico ma non così tanto amico nooo ci ho pure fatto un po' lo scemo dietro poi non è successo niente però ci ho pure fatto lo scemo dietro e l'amico tuttora non lo sa nooo penso che adesso lo saprà beh ma non è riconosci ho tanti amici sai no 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 ma ho tanti amici magari per sospetto e dice aah no no ma è stata una roba proprio insospettabile cioè nessuno potrà mai capire quello che ho fatto e dove l'ho fatto e come l'ho fatto cosa applauso ma che è? no però aspetta chiaro che se invece il mio miglior amico stesse come una ragazza anche se fosse la più bella del mondo cioè io sull'amicizia ci tengo tantissimo quello non era un po' una scelta una passata e a me li fai paura di gestire quelli così ma povero no perché non ho paura di me povero eh sì mi è già successo ma non ho mai approfittato perché ovviamente il codice di amici cioè non si può non mi fa grazie ma un amico che io conosco? non so può darsi quindi sì sì ma chi? mentre stavi con me? no anche dopo per bane cioè anche prima anche prima dopo? e tu hai preso tra il mio toghi ha dato e lì a casa mia e vedi ste cose? ma ragazzi scusate cioè ho capito siamo arrivati all'ultima domanda la mia domanda è perché in casa i mariti e i fidanzati non trovano le cose questa qualunque gigi cioè quella persona del genere maschile non sono mariti e fidanzati anche il papà fratelli è una costante e ce l'hanno lì e basta alzare sì 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 oppure gliene hai detto 5 minuti prima guarda che questo te lo metto qua 5 minuti dopo amore dove ti hai messo? ma te l'ho detto chiunque tu lo facevi sempre anche perché io mi abito solo quindi non puoi scusare le metto da parte via le perdo io faccio tutto io quindi notare l'abito da solo da 6 mesi quindi puoi parlare di quando non abito da solo e chiedi a mamma mamma ma cosa c'entra? il genere maschile quello sì sicuramente mia madre ti ho messo questo qua questo qua un'attima dopo dov'è? davanti al mio naso però mia madre è una vista diversa perchè? perchè? perchè uomo e donna analizzano la realtà in modo diverso ma tu sei così maturo non sembra che cioè io non ci credo che hai 19 anni non lo so allora succede che magari come da parte dell'uomo magari le attenzioni o se la donna sono minore o comunque di meno stessa cosa succede anche con le donne cioè nel senso le donne non hanno tante attenzioni all'uomo e l'uomo ogni tanto perchè magari non sa dialogare con la donna cosa fa? cerca di eschimotage per attirare la funzione della donna io mi sono già persa credo che hai spiegato così no ti giuro non ci sto credendo cioè scusa me lo puoi spiegare? in pratica fingono di dimenticarsi e di non trovare le cose per attirare l'attenzione nostra perchè se no quindi per considerare quindi la mia quindi per 14 anni ma hai preso per il culo bene nil dopo oggi se ne parlo mi ditevi e l'avete fatto sì per noi ma mi calma non hai messo i cuscini del letto e li restiamo per andare a messo non li trovo vabbè ragazzi questo era il video di oggi hanno risposto devo dire sono stati bravi dai io sono convolta dai chi ha vinto dei due fatecelo sapere quali è stato il più onesto esatto tra i due e chi dice chi preme vince non vince niente andrea ma scusa almeno io già sto pensando alle follower eh vediamo tu Nicola adesso io poi dirò cosa? io poi dirò se mi portano le follower migliori Chiara o Nicola perchè Chiara quando faccio il video con lei mi scrive un esercito di ah davvero ai groupies più o meno se vuoi chiamarle così aspettiamo i vostri commenti mi raccomando andate a vedere il canale di Chiara e il video che abbiamo fatto assieme e se tornerai il canale quando tornerai c'è un occhio quando gli indica mi continuare con questa cosa un poveraccio no poveraccio e basta mi fermi un bacio grandissimo un bravo abbranzo e a domani sempre 17.30 ciao 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 Grazie a tutti.